Se stai bene insieme! I gesti gentili procurano amici, così a scuola siamo tutti felici. Se in fila indiana camminiamo, nella scuola non ci perdiamo. Anche se non siamo a carnevale, indossiamo una mascherina speciale. Se la mascherina va giù, con la manina la porta su. Un compagno da scuola non si deve lasciare. Chiamalo e invitalo con te a giocare. Alziamo la mano e uno alla volta parliamo, così meglio ci capiamo. Grazie a tutti!